buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere insieme brevemente che cos'è il protocollo remark un nuovo standard per la creazione degli nft che gira sulla cene di cosama il canary network di polka dot andiamo a vedere che cosa sono queste funzionalità perché è importante questo nuovo standard che presto arriverà anche sulla c'è madre polka dot il mercato degli nft è letteralmente esploso nel 2021 con oltre 2 miliardi di dollari spesi per acquistare gli nft solo nel primo trimestre di quest'anno ovviamente anche polka dot non poteva stare fuori da questa evoluzione andiamo a vedere adesso che cos'è il protocollo remark rm rk perché viene definito il protocollo nft più avanzato del mondo ed è parte integrante della cene di kusama il canary network di polka dot rm rk ore mark è un insieme di più standard che girano sulla blockchain di kusama composta essenzialmente da cinque lego nft originali l'assemblaggio di questi nft consente all'utente di creare sistemi di nft arbitrari ovviamente approfittando della rete di kusama della sua velocità e soprattutto dell'architettura multi chain questi nft saranno estremamente liquidi e compatibili con i progetti non ancora annunciati per il momento ma soprattutto potranno essere scambiati su qualsiasi chain per rendere queste trasmissioni di dati e di nft ancora più veloci non utilizza sostanzialmente smart contract al posto degli smart contract scrive delle vere e proprie note che rappresentano ogni in effetti direttamente sui blocchi usando per la prima volta questo concetto che viene chiamato arte lego è proprio come dei mattoncini colorati questi lego artistici sono gli elementi che poi vanno a costruire gli nft e permettono di cornettersi tra di loro rm rk è un progetto interamente dedicato ai tocchi non fungibili e più avanti precisamente nel primo trimestre del 2022 dovrebbe incentrarsi anche sul metaverse di recente ha lanciato una serie di nft dedicati a canaria il portale canaria è costruito nativamente sulla black chain di kusama è compatibile ovviamente con polka dot le uova di canaria sono delle nft costruiti con lo standard rm rk e sono state pubblicate sulla block chain di kusama oggetti da collezioni digitali questi nft si schiuderanno in speciali canaria giapponesi dopo che ovviamente è trascorso un certo periodo di tempo e sono state soddisfatte alcune delle condizioni disponibili su ogni uovo lancio di queste uova venuta marzo 2021 ha generato 6 milioni di dollari in vendite totali dagli uova nft in edizione limitata brevemente che cos'è kusama kusama è una block chain che funziona da rete canari di polka dot questo va a significare che gli aggiornamenti che sono stati costruiti per la catena di polka dot prima andranno sulla block chain di kusama verranno testati in ogni loro funzionalità sia a livello di infrastruttura ma soprattutto anche a livello economico attenzione però usama non è da confondere con una test net perché gode di una propria block chain e le delle proprie attività e in effetti kusama si è parecchio ramificata in modo significativo e ora gode praticamente di una sua autonomia attualmente il token rm rk oppure remark si attesta a un valore nel momento in cui registro questo video di 7 euro e 29 centesimi con un'oscillazione positiva dell'1 via gola tantatré per cento e avrà una totale circolazione di token pare a 10 milioni di unità e come vedete qua dal contratto c'è il simbolo di kusama perché è un token nativo che gira sulla blog cene di kusama attualmente è acquistabile sugo coin e su gate punto io cambiabile con usdt il suo massimo storico al momento è stato raggiunto il 5 ottobre 2021 e con un valore di 10 euro virgola 85 ad oggi ha perso il 32 per cento quasi il 33 per cento dal suo massimo storico oltre avere la funzionalità di governance giocherà un ruolo importante come valuta di scambio nel metaverse che andranno a costruire il progetto remark è stato lanciato nell'agosto 2020 da un docente del web 3.0 foundation bruno svor che anche un appassionato della decentralizzazione è uno sviluppatore block chain con la sua visione a lungo termine è stato in grado di raggiungere con lo standard remark su kusama quello che in molti stanno cercando di ottenere su ethereum rm rk è il primo standard per gli nft che gira su kusama e poi verrà introdotto anche su polka dot e viene considerato la base dei sistemi nft più avanzati al mondo come abbiamo visto a una fornitura circolante massima di 10 milioni di token e secondo le stime l 88 per cento di queste token è stato distribuito alla community che ha acquistato le uova canaria per quanto riguarda l'11 per cento dei token rimanenti il 5 per cento è bloccato per il team fondatore e il resto viene prestato ai market maker per la liquidità degli scambi sempre secondo gli sviluppatori e la roadmap per garantire l'intera compatibilità cross chain remark avrà anche una versione integrante con gli smart contract che gli permetterà ovviamente di interagire ad esempio con le tiri un virtual machine questi standard nft 2.0 remark a breve diventeranno il primo ambiente runtime condiviso sull'ecosistema di polka dot permettendo il trasporto multicatena praticamente a costo zero attualmente queste nft possono essere acquistati solamente su singola che il marketplace ufficiale di remark e attualmente possono essere solamente acquistati tramite kusama come valuta per lo scambio con l'aggiornamento remark 2.1 gli nft supporteranno protocolli per il copyright integreranno ovviamente le aste le raccolte pubbliche e addirittura anche una modalità noleggio per quanto riguarda gli nft che poi andremo a vedere più avanti quando ci saranno maggiori dettagli per interagire con questo marketplace potete scaricare l'estensione per chrome oppure per firefox del portafoglio polka dot punto js una volta connesso il portafoglio per poter mintare un nft su singolar basta andare su create ogni nft che si va a creare su questo standa deve essere inserito in una collezione quindi prima di tutto dobbiamo creare una nostra collezione clicchiamo su create collection possiamo selezionare il numero massimo di nft che si possono aumentare su questa collezione andiamo a generare un numero un simbolo di riconoscimento per la rete di kusama una descrizione ed eventualmente un link esterno per esempio può portare al nostro profilo social quando abbiamo controllato e completato tutti i parametri clicchiamo su create una volta che cliccate su create si aprirà il pop up dell'estensione del wallet polka dot js basterà inserire la password che avete scritto nel momento della registrazione ovviamente per a poter approvare la transazione bisogna avere dei kusama nel portafoglio per il pagamento delle figli una volta approvata alla collezione la cartella della collezione tornando indietro quasi aprirà un altro quadratino dove noi potremo andare a creare ogni singolo nft che vogliamo sempre sulla pagina ufficiale potete andare a vedere anche chi compone questo variegato team ma soprattutto i partner di questo progetto dove notiamo la collaborazione con gate punto io shard labs moon whale pacca kernel venture e tutti nomi e partner veramente forti bene ragazzi siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento come sempre spero che questo video vi sia stato utile e lo abbiate trovato interessante vi invito come sempre ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui miei video ovviamente per supportare anche il mio lavoro di lasciarmi un like per aiutarmi con l'algoritmo di youtube ed univi anche la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi vi auguro una buona giornata ciao a tutti ciao a tutti